ciao a tutti cari amici di youtube bentornati e bentrovati sul mio canale per un nuovo video allora oggi siamo qua con una domanda da fare alle parte quindi rispetto diciamo alla persona che voi avete nel cuore che desiderate che pensate eccetera chiederemo che che intenzioni ha e cosa pensa diciamo vediamo cosa ci dicono i carocchi allora prima di cominciare naturalmente vi ricordo come sempre che sotto in info box e anche nel primo commento fissato in alto trovate la mia email cleodice chiocciola hotmail.it dove potete contattarmi per informazioni o per inviarmi la vostra domanda gratuita mi potete contattare anche al 342 8357 992 tramite whatsapp se volete appunto delle informazioni o se volete commentare i miei video in privato con me mi potete seguire su la mia pagina facebook o sul mio instagram che si chiamano entrambi le carte di cleodice ovviamente iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e se il video vi sarà piaciuto ovviamente regalatemi un like benissimo io direi a questo punto di andare a cominciare con la nostra lettura vi ricordo che la domanda gratuita è disponibile ancora per tutto il mese di luglio mi raccomando inviatela tramite email poi credo che la sospenderò diciamo per il mese di agosto come faccio tutti gli anni per poi riprenderla a settembre ovviamente questo vale diciamo per la domanda gratuita perché poi ecco l'agosto diventa per me un pochino difficile starci dietro allora iniziamo questo video quindi prendiamo i tarocchi tutti quanti gli arcani maggiori e minori messi insieme andiamo a vedere cosa pensa e che intenzioni ha iniziate ad individuare la persona su cui volete fare questa domanda e mescoliamo il mazzo se volete potete già individuare anche la vostra variante io ho messo qua giallo viola e trasparente qualcuno non apprezza le mie pietre mi ha chiesto di cambiarle ma non mi ha spiegato perché ok fatemi sapere se invece vi piacciono oppure se anche voi volete che le cambia le cambio insomma nessuno mi ha detto se vi è piaciuto il discorso che avevo fatto la settimana scorsa se non sbaglio insomma un po' di giorni fa se non ricordo riguardo alla premiere non lo so se replicherò questa esperienza perché non mi avete dato pareri particolarmente positivi quindi penso che continuerò a pubblicare video come facevo prima invece avete desiderio diciamo di fare che io faccio altre premiere eventualmente fatevi vivi fatemelo sapere ok allora cosa pensa e che intenzioni ha ok allora poi andremo a prendere queste a fine di ogni lettura e andremo a vedere anche le sibili cosa ci dicono ma le muscoleremo in tempo reale allora si è spenta la candelina guardate pazienza ok scusatemi no niente non volevo venire accesa oggi ok 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 scusate scusate ecco mi sto rianimato ok allora dicevamo variante numero uno cristallo giallo variante numero due cristallo viola variante numero tre cristallo trasparente ok allora quindi vi ricordo che la domanda è che cosa pensa e che intenzioni ha concentratemi sulla domanda che stiamo facendo le nostre carte e andremo poi a fare la nostra lettura vi lascio qualche secondo naturalmente come faccio sempre benissimo direi a questo punto di andare a cominciare allora cristallo giallo cristallo giallo cosa pensa e che intenzioni ha allora diciamo che sicuramente in questo momento questa persona è abbastanza concentrata su delle situazioni che riguardano la sfera del denaro la sfera economica la sfera lavorativa probabilmente ha delle situazioni diciamo su cui ritiene di dover rimanere piuttosto come dire lucido lucida insomma non vuole troppo dedicarsi in questo momento probabilmente alla sfera dei sentimenti perché sta aspettando probabilmente delle situazioni di realizzazione delle situazioni comunque diciamo economico lavorative che deve comunque risolvere perché sembra ecco che sia la persona per cui l'ambito economico l'ambito comunque lavorativo ha una particolare importanza allora diciamo che secondo queste carte però tuttavia ha un pensiero comunque positivo una predisposizione comunque diciamo buona nei vostri confronti l'intenzione diciamo sembra essere quella comunque di un'apertura delle iniziative ma ecco purtroppo in questo momento queste iniziative di tipo sentimentale queste iniziative di tipo appunto privato affettivo forse non hanno propriamente diciamo la come dire appunto la priorità nella sua vita ok cioè ci sono probabilmente altre cose che deve fare prima però la predisposizione e l'intenzione è positiva sembra che comunque ci sia un sentire buono un sentire positivo nei vostri confronti ok soltanto che ecco la sua mente forse un po' razionale diciamo calcolatrice sotto per certi aspetti ma in senso buono ovviamente in questo caso sto intendendo gli impone di avere un certo autocontrollo cioè di muoversi da un punto di vista sentimentale con una certa prudenza cioè non deve caricare troppo la sua vita in questo momento quindi ha questa situazione che a voi magari potrebbe diciamo sembrare no come una sorta di disinteresse potrebbe ecco essere interpretata da voi come diceva beh non gli importa abbastanza non è che non gli importa abbastanza ma questa è una persona che prima deve sistemare alcune questioni che poi può dedicarsi diciamo alla sfera privata, alla sfera dei sentimenti e questo dovete tenerlo diciamo fortemente in considerazione anche per un eventuale futuro perché sarà sempre così è proprio un indole, proprio un carattere cioè nel senso che quando c'è delle istruzioni lavorative quelle vengono prima di ogni altra cosa purtroppo ecco ci sono delle persone così poi purtroppo per fortuna, anzi non lo so, dipende poi dai punti di vista però ecco c'è questa cosa, questo limite che in qualche modo dovete tenere bene a mente andiamo a vedere cosa ci dicono le sigille quindi abbiamo detto cosa pensa e che intenzioni ha vuole parlarvi, dicono le carte vuole parlarvi vedete probabilmente vuole in qualche modo diciamo darvi diciamo notizie, percepisce probabilmente che voi non siete soddisfatte che voi comunque no? vorreste qualche movimento da parte sua però in qualche modo vi vuole far capire che c'è una situazione che lo preoccupa da un punto di vista diciamo privato e che ha bisogno comunque di occuparsene quindi in qualche modo è probabile che ha intenzione anche di parlarvi di queste situazioni che comunque gli impediscono di essere presente in questo momento che appunto vuole parlarvi diciamo delle sue priorità e questa comunque è una buona cosa perché in qualche modo potrebbe mettere fine ai vostri dubbi alle vostre esitazioni ai vostri sospiri e quant'altro insomma ok quindi dovete avere pazienza con questa persona benissimo andiamo a vedere cosa ci dicono le carte perché ho scelto la seconda variante quindi il cristallo viola e vediamo un po' allora dunque diciamo che in questo momento questa persona diciamo ha dei pensieri un po' contraddittori ok nel senso che da una parte sicuramente ha diciamo dei pensieri delle intenzioni positive nei vostri confronti nel senso che comunque vede in voi una persona positiva ha sicuramente un sentimento ha sicuramente un interesse ma da quello che vedo nelle tarte c'è probabilmente una situazione forse legata al suo passato forse comunque precedente a voi qualcosa che è successo che ha creato comunque dei problemi dentro di lui e che lo rende probabilmente molto frenato o molto frenata cioè nel senso che vedo che le sue intenzioni i suoi sentimenti il suo slancio nei vostri confronti è frenato dicono le carte da qualche paura cioè dalla paura di rimettersi in gioco questo dicono le carte quindi diciamo che tende in questo momento a avere un atteggiamento nei confronti proprio dei sentimenti nei confronti delle emozioni eccetera di grande di grande cautela cioè nel senso che ecco probabilmente si diciamo astiene un po' dal dall'essere troppo esplicito estroverso troppo comunque diciamo come dire espansivo ecco ma si tiene molto frenato perché probabilmente non vuole rivelare diciamo il proprio interesse la sua progettualità il suo entusiasmo eccetera perché ha paura che poi su questo ci possano essere delle delusioni quindi io vedo un atteggiamento complessivo di cautela dovuto non a voi come persone non a una mancanza di sentimento ma delle paure che forse deve superare perché riguardano situazioni che sono accorse probabilmente precedentemente della vostra situazione ok andiamo a vedere cosa ci dicono le sibille sempre per questa varianza numero 2 vedete vorrebbe un cambiamento vorrebbe un cambiamento e vorrebbe potersi fidare di più vorrebbe potersi lasciare andare di più però vedete c'è una situazione della paura diciamo di paura di essere ingannato c'è la paranoia dicono le carte quindi questa persona vedete vorrebbe comunque incontrarvi vorrebbe comunque avvicinarsi quindi gli ci vorrà un po' di tempo perché le carte appunto confermano assolutamente che c'è questo da una parte questa è proprio una carta diciamo che secondo me in questo caso rende bene questa ambiguità cioè nel senso che ci fa capire come da una parte c'è il desiderio di sblocco ma dalla parte c'è proprio questa paranoia rispetto al fatto di essere ingannato di essere tradito di essere deluso di vedere deluse le proprie aspettative ma con pazienza sembra che comunque questa situazione si sbloccherà cioè lo ha intenzione di tentare di impegnarsi a cercare di sbloccarsi quindi è una situazione ecco dove è necessaria un pochino di pazienza sicuramente però ecco non è una mancanza di interesse questo sia chiaro benissimo andiamo ora a vedere invece perché ha scelto la terza variante quindi il cristallo trasparente cosa ci dicono le tarte quindi cosa pensa e cosa farà questa persona allora dunque diciamo che qui c'è una situazione un po' ferma per certi aspetti ma diciamo che questa persona sicuramente prenderà delle iniziative un po' altalenanti probabilmente cioè nel senso che a momenti è ferma a momenti si sblocca io vedo degli alti e dei bassi in questa situazione vedo un pensiero forse un po' distratto vi dico la verità nel senso che mi sembra che questa persona abbia degli impegni lavorativi economici diciamo privati molto importanti in questo momento quindi probabilmente questa cosa un po' distrae sicuramente non mi sembra che abbia dei problemi ma proprio che stia alla ricerca di qualcosa a un progetto un qualcosa che comunque sicuramente lo distrae però a sprazzi vi cerca a sprazzi comunque cioè non ha un'intenzione di progettualità in questo momento con voi a lungo termine perché diciamo che le sue intenzioni sono spostate altrove tuttavia le carte dicono che ecco ci sono questi così queste azioni positive che danno diciamo ci danno ragione di un pensiero bello e positivo che comunque ha verso di voi le carte dicono che però non è un pensiero costruito al 100% è un pensiero che va e che viene quindi questa persona probabilmente non è pronta o comunque non rispecchia completamente quello che voi l'idea che voi avete di lui o di quello che voi vorreste di lui perché forse avete idealizzato un po' questa persona forse lo vedete o desiderate qualcosa che in questo momento questa persona non può darvi perché ecco sembra che le sue ambizioni vadano un po' diciamo in un'altra direzione però ha dei pensieri ripeto un po' intermittenza e quindi di conseguenza anche le sue intenzioni rispecchiano questa cosa cioè purtroppo in questo momento io non posso dire che questa persona abbia un'intenzione di progettualità e di costruzione di qualcosa di solito con voi ok questo è un po' il senso delle parte perché probabilmente deve altro per la testa diciamo ecco andiamo a vedere un po' le sibille cosa ci dicono vedete ci sono delle intenzioni però bloccate che quindi non prendono forma e allora le carte dicono che le intenzioni di questa persona potrebbero cambiare un po' con il tempo diciamo con un po' di pazienza però per ora vedo come se questa persona tendesse un po' diciamo a deludere le vostre aspettative a deludere diciamo come dire il vostro il vostro sentire le carte dicono che le sue intenzioni sono quelle di incontrarvi ci sono comunque pensieri di interesse nei vostri confronti ma manca un po' questa piena soddisfazione cioè non ve ne dà completamente ragione ok perché appunto questa persona è distratta d'altro che dirvi sicuramente è una persona che potrebbe farvi perdere un po' di tempo questo ve lo dico quindi in questi casi io dico sempre fate i conti su quanto effettivamente questa persona vi interessa più in un fondo su quanto veramente è questa persona che voi volete cioè nel senso che se potete prendere in considerazione anche altre opportunità forse la vostra vita potrebbe prendere anche delle pieghe diverse cioè nel senso che potrebbe sbloccarsi magari in maniera più veloce però se invece siete proprio presi da questa persona diciamo assolutamente e che quindi non vedete nessun altro oltre che lui o lei allora magari vale la pena di aspettare perché comunque le carte davano un'indicazione un po' di un possibile sviluppo positivo di queste intenzioni però diciamo un po' in un secondo momento benissimo io ho terminato questa lettura spero che vi sia stata in qualche modo d'aiuto che vi abbia diciamo così come dire illuminato un pochettino la vostra situazione e chiarito qualche piccolo dubbio spero di risentirvi presto in un nuovo video spero di farlo un altro prossimamente aspetto comunque sempre le vostre richieste i vostri suggerimenti vi ricordo che comunque potete sempre scrivermi in privato se avete voglia di suggerirmi qualche video in particolare e quindi vi do appuntamento al prossimo video e vi mando un grande bacio un grande abbraccio vi auguro una buona giornata a presto ciao ciao